come aumentare così la connessione internet su steam come puoi vedere troppo lenta ma grazie anche a dei metodi che ti farò vedere nel tutorial ed eccoli qua 90 megabyte per aumentare così la connessione nella velocità internet su steam ovviamente è possibile usare il cavo ethernet a posto della connessione wifi che è molto più veloce quindi in questo caso se invece riscontri i propri problemi a farlo funzionare sotto computer il cavo LAN ti consiglio di installare così il driver sulla tua scheda madre basta che vai a vedere sul system information che scheda scheda madre a io ho la b450 gaming plus vado a scrivere qua sopra b450 gaming plus vado sul suo sito vado direttamente sul supporto vado su driver vado su line driver ed eccolo qua scarico installo così driver sul mio computer riavvio il sistema e riprovo così a riscaricare il gioco su steam per vedere a quanto andiamo di velocità di download e piano piano sta anche salendo ovviamente sta sui 4,7 megabyte 5,5 megabyte ma facendo anche un cambiamento su gestione dispositivi tasto destro su start vai su gestione dispositivi vai sul tuo la tua connessione internet io questa qua quindi su schede di rete realtech pc che sarebbe il mio cavo ethernet e questo qua invece la mia connessione wifi che non uso più clicco qua sopra vado su avanzate scendo fino a giù fino a trovare gli ultimi due wacom magic e questo qua wall shutdown questo qua vado su metto abilitato e qua sopra vado a mettere prima 100 megabit al secondo e faccio ok aspettiamo che si ripristina così la rete internet come puoi vedere chi sta connettendo di nuovo in questo caso se riscontri ancora problemi con la rete tu puoi semplicemente cliccare sopra tasto destro sopra zona driver cercai driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili scendi fino a giù fino a trovare ed eccolo qua come puoi vedere il mio ultimo driver che mi hanno rilasciato 15 ottobre 2024 un driver di quattro giorni fa che ho installato questa mattina faccio avanti installo così driver se continua ad avere questi problemi una volta riavviato il sistema riprova di nuovo a vedere la velocità dei download e vediamo se sale quindi al posto di questi 3 4 megabyte vediamo a quanto arriviamo riprendiamo il download 18 megabyte al secondo 23 megabyte al secondo e piano piano sta salendo quindi aggiornando i driver facendo delle modifiche su gestione dispositivi anche per quelli che hanno una fibra ultra in casa quindi hanno una buona connessione riscontrano problemi con il download tipo 2 3 megabyte quindi facendo queste procedure noi possiamo aumentare di parecchio la velocità dei download quindi come puoi vedere in quest'altro quest'altro video qua io sono riuscito a farlo arrivare fino a 80 90 megabyte al secondo ma adesso sto avendo alcuni problemi che presto risolverò quindi usa questi metodi su come aumentare i download su steam quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao